Buone notizie dal turismo piacentino. Il primo semestre del 2018 fa segnare infatti una crescita di tutti gli indicatori. I dati, ancora provvisori, sono stati presentati in anteprima da Piacenza Economia e sono quelli trasmessi dalla regione relativi ai flussi turistici in provincia di Piacenza. Confrontando i dati con quelli del primo semestre dello scorso anno, nel complesso degli esercizi ricettivi, gli arrivi si attestano a quasi 125.000, con un incremento del 5,2%, mentre le presenze sono quasi 244.000, aumentando dell'11,4%. L'indicatore della presenza media, cioè per notamenti su arrivi, passa così da 1,84 a 1,95 giorni, con un incremento del 6%. A livello territoriale, i movimenti turistici, sia per motivi di lavoro che per vacanza, sono concentrati per il 60% nel capoluogo Piacenza, 74.000 arrivi e 146.300 presenze, e per oltre il 25% negli altri comuni di pianura, tra i quali Fiorenzuola al 5%. Bobbio e i centri dell'Appennino rappresentano invece complessivamente una quota del 3% circa, mentre i comuni collinari incidono per l'11%. Rispetto al primo semestre del 2017, Piacenza incrementa dell'8% gli arrivi di turisti e del 16% i pernottamenti. Ancora meglio fa Bobbio, che mostra un considerevole sviluppo sia degli arrivi più 24% che delle presenze più 18%.